nei pressi della chiesa della rotonda sono ormai circa una settimana che è successo questo sconguasso questo marciapiede attraversato quotidianamente da tutti i residenti negli alberghi nella zona dei grandi alberghi come la parca dei principi e tutto l'hotel de londra e tutti gli altri che stanno all'altro lato ci chiediamo quanto tempo ancora dovrà passare prima che si sistemi o prima che succeda qualche accidente